Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, anche questa sera parliamo di politica perché, come sapete, sono giorni in cui si definiscono le liste, le coalizioni in vista delle prossime regionali che si terranno quasi certamente nell'ultima settimana di marzo, vengono fuori le candidature, però è anche il tempo per parlare di quelli che sono stati questi cinque anni della consigliatura regionale, allora noi lo facciamo ospitando nei nostri studi i capigruppo di maggioranza e di opposizione. Un cordiale buonasera ai nostri telespettatori e soprattutto un cordiale buonasera a Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera a lei direttore e telespettatori. Allora, Verrecchia, noi abbiamo vissuto cinque anni di legislatura regionale, lo dicevamo ieri sera anche con Mauro Febbo, insomma all'insegna di una stabilità politica senza grandi problemi nella coalizione di centrodestra, ricordiamo con Febbo forse l'unico piccolo incidente fu legato proprio al suo impegno nelle elezioni comunali di Chiedi, ma insomma centrodestra ha navigato dal punto di vista dei rapporti tra alleati mesi e anni tranquilli. In queste ultime settimane si è un po' accesa la frizione, in particolare sul tema dei cosiddetti trasfughi, vale a dire di consiglieri che sono stati eletti in altre liste o addirittura in altre coalizioni e sono passati altrove, sempre all'interno del centrodestra, stessa cosa è avvenuta anche in altri ambiti e in altri contesti, non soltanto alla regione Abruzzo. Ecco, su questo tema, a suo avviso, c'è un rischio di difficoltà di linguaggio di comprensione all'interno del centrodestra nel partire in questa sfida su cui la candidatura di Marsiglio è andata di fatto già ormai da mesi. Ma guardi, non ravvisiamo grandi difficoltà soprattutto perché abbiamo una classe dirigente molto matura, incontri continui, tra poco andremo a fare anche un tavolo di coalizione per rilanciare l'attività e soprattutto anche gli amministratori stessi regionali che hanno ben operato, iniziando dagli assessori della Giunta, i consiglieri, e avranno tutto l'interesse a dimostrare il buon operato che hanno messo in atto durante il loro mandato, il loro lavoro. Per quanto riguarda la questione dei passaggi, beh, quale cosa migliore se non riporsi al giudizio degli elettori per verificare la bontà di questa loro attività politica e quindi saranno sottoposti al voto democratico e quindi che andrà a premiare o bocciare quelli che sono anche i comportamenti politici adottati. Ecco, ma vi darete la regola che, insomma, alcune forze politiche hanno rivendicato l'Udc, la stessa Forza Italia, secondo cui ciascun partito è libero di scegliere i propri candidati senza subire veti da parte degli alleati. Sarà questa una regola di ingaggio di cui discuterete in questo incontro di coalizione? Guardate, non è che all'interno di un proprio partito ci si può andare a mettere costantemente il becco. Ognuno ha la propria autonomia e quindi decideranno loro stessi di come saranno composte le liste, purché siano persone che non abbiano difficoltà sotto l'aspetto normativo, ma quello è già regolato dalla legge. Quindi non vediamo tante difficoltà in questo senso. Da questo punto di vista mi pare che il punto, proprio in questi studi, sia stato ribadito dal Presidente Marsiglio. Non esiste nessun giudizio negativo su amministratori o consiglieri del centro-destra di questa legislatura. Ecco, su questo credo anche Fratelli d'Italia voglio sottolineare. Questo è anche un buon riconoscimento del Presidente Marsiglio alla sua squadra e soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità che la stessa coalizione ha dato e ha mostrato all'Abruzzo, ha espresso una maturità, non si sono visti grandi stravolgimenti di giunta, crisi prolungate, grandi litigi come abbiamo avuto modo di vedere con chi ci ha preceduto. E quindi abbiamo dovuto garantire una stabilità, una continuità, in piena sintonia di coalizione e soprattutto di grande maturità politica e amministrativa. Ecco, sempre in questo studio Marsiglio, parlando della coalizione che andrà a sfidarvi, ha detto parole di stima nei confronti del candidato Presidente Luciano D'Amico, ma anche di stimolo nei confronti delle forze politiche al centro-destra. L'errore più grande sarebbe quello di pensare di aver già vinto. Mancano sei mesi e saranno sei mesi da vivere pancia a terra. Assolutamente d'accordo con quanto detto dal Presidente, ne abbiamo già parlato anche in maggioranza, ma c'è tanta voglia e determinazione da parte di tutta quanto il centro-destra di riaffermare proprio questo schieramento, perché siamo convinti che anche la filiera istituzionale possa aiutare molto l'Abruzzo, lo possa aiutare anche con una continuità di questa amministrazione senza attendere rinnovi, stop and go che spesso si verificano all'inizio della legislatura. Quindi abbiamo tutto da guadagnarci e soprattutto la maturità anche qui di non dare per scontato nulla e aumentare ancora di più quel rapporto comunicativo dei risultati che ci sono stati all'interno di tutto il tessuto socio-economico della Regione. Forza Italia in questi cinque anni, siamo al bilancio un po' del gruppo, ha perso molti consiglieri, ma li ha persi perché sono diventati parlamentari, sono diventati assessori, quindi sono arrivate le surruche e fratelli d'Italia. Forza Italia è diventato anche un gruppo molto rilevante, c'è questo tema di equilibri con la Lega che sono diversi rispetto a quelli dall'inizio della legislatura. Dal punto di vista però dei risultati, anche dei provvedimenti che avete votato in questi cinque anni, il dato politico generale anche qui nei lavori consigliari di ogni giorno, qual è stato per Reggio? Direttore, abbiamo portato a termine molte delle cose che ci eravamo prefissati e soprattutto i telespettatori e gli elettori cittadini abruzzesi hanno potuto comunque constatare, al pari delle altre regioni come i due anni di Covid, comunque hanno interrotto quella azione amministrativa di normalità. Abbiamo dovuto affiancare quella dell'emergenza del Covid, ma nonostante questo non ci siamo sottratti nel portare a termine importanti risultati nel campo infrastrutturale, della sanità. Basti pensare che questa regione aveva molte incompiute, aveva molte attività che erano rimaste in sospeso e che proprio per quello i cittadini ci hanno premiato alla guida di questa regione. È convanto che opere infrastrutturali messe in atto dall'attività della Giunta Marsilio e della sua amministrazione ne stanno dando risultati. Pensiamo, non ci siamo agli interporti, avevamo quello a San Salvo e siamo riusciti a stimolare una ricerca che ha portato Amazon a San Salvo. Così l'interporto ad Avezzano, pensate erano 30 anni che non si riusciva a dare in gestione l'interporto, una struttura nata e conosciuta solo perché grazie a quella struttura ne ha utilizzato un supporto all'emergenza, sia per la protezione civile, sia per la Croce Rossa, anche ospitando spesso persone che avevano attività nei loro paesi di guerra e quant'altro. Quindi siamo riusciti dopo tanto ad aggiudicare anche l'interporto della Marsica che avrà un volano economico sicuramente importante. Così è rimasto solo quello di Roseto, poi sotto l'aspetto della Roma Pescara ne abbiamo discusso e sapete che sono ritardo, ma è un ritardo tecnico la partenza dei due lotti, ma è un'opera importante che voglio ricordare solo grazie al Presidente Marsilio che è riuscito a mettere al tavolo l'allora Ministro De Micheli, l'allora amministratore delegato di RFI Gentile e si riuscì con Zingaretti e il Presidente a formare un protocollo e dare avvio a quello che non c'era mai stato. Erano solamente enunciazioni di fatto, ma non atti concreti come quelli che siamo riusciti a mettere in atto noi. E quindi se si può parlare oggi anche del raddoppio ferroviario lo si deve grazie a questa amministrazione. Negli ultimi giorni la polemica, restando sulle infrastrutture, si è accesa molto sull'aeroporto d'Abruzzo, ne ha parlato a lungo anche su questo Marsilio proprio qui, c'è un rischio di dimensionamento legato ai piani delle compagnie? Quello delle compagnie è un altro fatto, l'opposizione sta facendo il loro gioco perché ci si avvicina alle votazioni e cerca di non enfatizzare quello che è sotto gli occhi di tutti. Ogni anno si registrano record di passeggeri, quest'anno stiamo sui 715 mila, ogni anno viene sempre di più incrementato. C'è stato un problema delle compagnie, tutti quanti lo sanno, avevamo prima l'Italia che accumulava debiti e che purtroppo aveva rovinato anche molte le casse dello Stato perché attraverso le tasse dovevamo rimpinguare queste perdite e è stata ceduta una nuova società, quella è morta, quindi questa nuova società ITA che è composta anche soprattutto da un partner straniero e che per il volo per esempio di Pescara a Milano arriva richiesto 5 milioni, quindi sono somme anche esorbitanti viaggiando anche a meno della metà dei posti. Ma non per questo ci fermiamo, non per questo sarà ridimensionato, siamo già a lavoro così come è avvenuto in altri aeroporti in Italia, il Presidente già in contatto con il Ministero, in particolare con Bignami che è il Vice Ministro delegato appositamente a questo tipo di attività e quindi quello che invece andremo ad esaltare è che finalmente c'erano sì i fondi ma non c'era un progetto per quanto riguarda l'allungamento, un progetto molto molto complesso perché per via della sicurezza bisogna avere molte accortezze, avevamo anche precedentemente raccolto e visto che in molte situazioni non c'erano neanche più i piani per quanto riguarda l'antincendio, quindi c'è stata tutta un'opera di rimessa a posto dell'aeroporto che diventerà un aeroporto con l'allungamento della pista con voli intercontinentali addirittura. I prossimi giorni, le prossime settimane il Consiglio regionale saranno intensi soprattutto per quel che riguarda il piano di riordino della rete ospedaliera che è stato avallato dal Governo, adesso c'è il passaggio in giunta, poi si arriverà al confronto che sarà serrato con le opposizioni, vi preparate a questo scontro che potrebbe anche offrire momenti di ostruzionismo? L'opposizione fa il loro lavoro e noi faremo il nostro, è una rete ospedaliera che mai nessuno è riuscito a portare a termine e il fallimento della precedente amministrazione è evidente, noi siamo riusciti con l'attuale Ministro a portare a casa un risultato storico per questa regione con l'aumento di posti letto, con un aumento delle unità operative complesse e siamo riusciti attraverso altre misure che già avevamo a rendere questa regione più efficace ed efficiente, in un tema quello della sanità che in tutta Italia ha enormi difficoltà iniziando dal reperimento del personale, quindi noi si stiamo adoperando affinché questa regione esprima il meglio sotto l'aspetto sanitario, non è semplice una materia delicata, ma c'è tanta buona volontà di portare a casa questo risultato e lo faremo prima della scadenza del termine, avendo salvaguardato quello che altri pensavano ormai non poter più essere salvabile e quindi parliamo di Tagliacozzo, di Pescina, abbiamo investito sull'ospedale di Penne, sono iniziati lavori di 18 milioni, abbiamo portato a casa l'ex articolo 20, 333 milioni per l'edilizia pubblica dove abbiamo dato input che gli ospedali verranno realizzati nuovi con fonti pubblici e non project e quindi iniziando anche da quello di Avezzano dove a breve presenteremo anche il progetto di 104 milioni, lì c'è anche un problema sismico e quindi una nuova struttura, cosa che prima era solamente, come avevo detto, fatta di enunciazioni e mai nulla di concreto, così come andremo poi a farlo a Vasto e a Lanciano e c'è anche quello di Teramo dove il Presidente Marsilio si sta adoperando molto, dove non c'è un'amministrazione che probabilmente non ha capito bene come funziona ma deve portare in consiglio il progetto per esprimersi se vuole cambiare località e perché in base a quello avrà anche differenti costi e quindi è il Consiglio Comunale, le opposizioni hanno richiesto una seduta apposita e non una semplice enunciazione programmatica, serve una delibera comunale che si vuole fare a Villa Mosca, benissimo, lo si esprima attraverso una delibera, i soldi li ha garantiti il Presidente, se c'è un restante si farà un mutuo ma bisogna capire dove fare l'ospedale e l'ospedale a Teramo ha necessità di essere un ospedale nuovo e non ristrutturare un ospedale ormai vecchio. Bene, io ringrazio Massimo Verrecchia per questa chiacchierata che è un po' aperta la campagna elettorale, si voterà l'ultima settimana di marzo, non mi sono sbagliato su questa previsione, tutte le regioni vanno verso questa convergenza, le quattro in cui si voterà primavera. A fine di marzo è Pasqua, la penultima, la penultima, non lo so, vediamo, potrebbe essere anche il 17 marzo, adesso il Presidente è impegnato anche con gli altri governatori a trovare una condivisione, non perché sia vincolante anche a loro perché abbiamo questa autonomia, ma molti statuti dettano delle tempistiche rispetto a delle scadenze, perché altre adottando semmai quella di marzo non hanno terminato la loro legislatura e quindi vedremo se è possibile trovare una altrimenti si perseguirà la nostra normativa, quella di sentire il Presidente del Consiglio e andare poi in corte d'appello. Bene, comunque sia la campagna è già iniziata e l'avremo da seguire per tutti i prossimi sei mesi, grazie ancora, arrivederci alle prossime occasioni, arrivederci. Buonasera.